Passeggiare nel cuore antico della città e fare tappa al mercato allestito dalla Coldiretti all'interno dello storico spazio di Santa Pollonia a Salerno. 18 aziende ogni martedì e venerdì offriranno la possibilità ai consumatori di scegliere prodotti d'eccellenza, prodotti stagionali a chilometro zero e per quanti lo vorranno ricevere anche a domicilio la spesa. Tutto questo sarà possibile da sabato 7 dicembre quando sarà inaugurato il primo mercato coperto Campagna Mica della Campania nello storico spazio di Santa Pollonia firmato da Coldiretti Salerno e Campagna Mica e mentre prosegue l'allestimento del mercato coperto dove i consumatori potranno trovare il meglio dell'agricoltura salernitana, prodotti freschi e di stagione il direttore di Coldiretti Enzo Tropiano si mostra orgoglioso di questa scelta. Sabato 7 dicembre inauguriamo il mercato coperto di Santa Pollonia nel pieno centro storico di Salerno, un luogo unico e esclusivo dove i consumatori salernitani possono trovare le eccellenze nel nostro territorio ma anche i vini, abbiamo previsto una bella enoteca che rappresenta tutti i vini campani, ma un luogo dove è possibile fare la spesa, ottenere la consegna a domicilio, un luogo che sarà aperto il martedì e il venerdì di ciascuna settimana quindi non solo per il percorso natalizio ma in maniera permanente dalle 9 alle 18 dove assicuriamo la possibilità di acquistare prodotti genuini ma anche di conoscere la storia dei prodotti e di avere tante esperienze con una serie di laboratori che mettiamo in campo per le scuole, ogni martedì avremo già le scuole che saranno oggetto di percorsi divulgativi con i ragazzi che faranno percorsi sull'olio, sul pane, sulle produzioni locali ma avremo anche mostre fotografiche all'interno del mercato, avremo eventi culturali di vario genere grazie alla collaborazione con la Bottega San Lazzaro che ci ha consentito di usufruire in maniera permanente di questo spazio. Quindi direi che all'interno della città di Salerno apre una formula del tutto innovativa simile a quella che è possibile visitare quando si va a Barcellona, nel mercato coperto di Barcellona, la Bottegaera dove tanti consumatori possono gustare l'eccellenza spagnola e qui avremo l'eccellenza dell'Enerità nel mercato coperto di Campania Mica, la sessantesima apertura a livello nazionale in un capoluogo e la prima in campagna a cui seguirà poi Napoli e Benevento. Prodotti di eccellenza in una location monumentale della città di Salerno. Questa è un'esperienza unica nel panorama nazionale perché apriamo all'interno di un museo, di un museo veramente con una grandissima storia, Santa Pollonia, una chiesa che è del 1060, quindi una cultura millenaria che è stata sconsacrata subito dopo il terremoto e che è diventata e sta diventando ancora di più un centro culturale, un polo dove è possibile sia fare teatro che ascoltare musica che consumare del buon cibo a chilometro zero.